Si è? Si è? Si è stanca? Diciamo Continuereste ancora a cantare? Si Tutta la notte? Si perché io mi diverto Quando ti arrivi? Io ne devo fare 9 a settembre ne ho 8 Un fenomeno questa Allora con chi hai collaborato? Con chi hai fatto canzoni? Con chi hai cantato? Allora ho cantato canzoni di Martino e le canzoni che scriveva Gianni una e ho fatto anche canzoni con chi era una amica Carmen Zardegna e anche con canzoni di Martino Allora non ho parole Allora dici la canzone è la tua canzone preferita quella che canta con tanto piacere è vero che tutte sono comunque a te però anche con una in particolare Il mio sogno è più un'altra che è delicitina Ci vuoi dire qualcosa? No De l'anticipo? No, non posso dire Quindi ci dite ancora all'oscuro? Si Va bene Adesso dai vai a dire cosa ha Ti dobbiamo fare qualche altra cosa